Signore E con il tuo spirito Il nostro cuore è il suo cuore di amare, il suo cuore di sé e di amare. Vogliamo dire a lui il suo cuore di aiutarci a essere con noi nelle nostre relazioni, con noi da chi ama, a dire questo momento, dalle grazie facili essi e al suo presenza. E mentre vi diciamo a casa della sua presenza, non vogliamo anche riconoscere, le fragilità del sesso ci fanno mantenere, e non ci manco sentire quella dignità di figli, di invece e tutta nostra, e di più ogni giorno di cui ci vuole. Chiediamo la tua vita, il tuo padre e il suo padre è il suo cuore di essenzialità. Signore, che è da? Nostra persona è da un eserolo, e non potente essere da un eserolo, e non potente essere da un eserolo, non potente essere da un eserolo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.